Si avvicina la data della vendita di Nuova Banca Etruri e degli altri tre istituti di credito nati dalle ceneri dei salvataggi di Banca Marche, Carichieti e Cari Ferrara. La scadenza per la cessione è stata prorogata a fine settembre, ma le preoccupazioni dei dipendenti continuano a crescere. Le rappresentanze sindacali chiedono responsabilità, ascolto e soprattutto un coinvolgimento nelle decisioni riguardanti la sorte dei lavoratori, degli occupati diretti e di quelli dell'indotto. Questa probabilmente grande banca del centro, la chiamo così, ha al suo interno quasi 6.000 lavoratori, circa 1.000 dell'indotto tra imprese e lavoratori autonomi, che mi pare un numero consistente e che gestiscono più di un milione di clienti in bonus, in attivo. Quindi noi crediamo che un piano industriale debba avere determinate garanzie riguardo all'occupazione, alla mobilità territoriale di noi lavoratori e che tenga conto della reale posta che c'è in gioco. Tra le priorità delle rappresentanze sindacali il mantenimento dell'organico e del centro direzionale di via Callamandrei. Abbiamo diminuito 130 persone nel 2012 e 260 circa ne andranno via a seguito dell'accordo del 2015. Ci sono state anche delle dimissioni volontarie di gente che comunque non poteva andare in pensione, però ha preferito approcciarsi a altri lavori o andare a lavorare in altri istituti. Ci sono stati un sacco di trasformazioni dei rapporti di lavoro a part time, quindi noi abbiamo diminuito tantissimo la forza lavoro. Vogliamo dire al compratore che deve guardare i numeri e non solo quello che ha sentito dire di noi. Abbiamo una sede centrale che al di là dell'efficienza che sta dimostrando, anche in un punto strategico, a pochi minuti, a una trentina di minuti dall'aeroporto di Firenze. Cioè nel senso ci sarebbero tutti i presupposti perché comunque molte lavorazioni rimanessero ad Arezzo secondo noi. Ma a preoccupare è anche la cessione della cosiddetta bad bank e dei conseguenti effetti della vendita dei crediti deteriorati sull'economia reale, sulle imprese e sulle famiglie. Non è indifferente chi gestirà questi crediti a rientro, non è assolutamente indifferente se lo farà con uno scopo di investire nel medio e lungo periodo in una ripresa economica del territorio o chi lo farà solo e esclusivamente per scopo di lucro, di profitto.